Buongiorno, mi chiamo Ekaterina Shistakova e rappresento la società Goreklesa. Vendiamo forniture di legno, sia all'ingrosso che al dettaglio, con consegne in tutta la Russia. Quest'anno, 2020, vogliamo entrare anche nel mercato europeo. Perché vi converebbe lavorare con noi? Perché tutti i nostri materiali provengono dalle regioni di Chirov, Castramà, Volgda e dalla Mordovia. Trattiamo pigni, abezi rossi, chiopi tremoli, tiglie, ontani e betulle e per questo possiamo fornirvi il tipo di legname di cui avete bisogno, a prezzi convenienti e di un'altissima qualità. Conosciamo bene i nostri fornitori, con i quali abbiamo una lunga collaborazione alle spalle. Questo ci ha aiutato a svilupparci e crescere nel mercato interno ed a fermarci come venditori di legno di alta qualità. Vendiamo tutti i materiali necessari per la costruzione di sauna, finiture interne ed esterne, porte, scale, pellet e tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare o rifinire una casa. Nella nostra offerta commerciale troverai le dimensioni del prodotto, una foto e i prezzi. Se non ti abbiamo ancora contattato, scrivici una mail a exportchiocciolagoratliesa.ru. Noi siamo pronti per effettuare spedizioni con camion e con un volume di circa 45 metri cubi e un peso consentito di 20 tonnellate al fine di ridurre i costi di consegne per unità di merce. Ci occuperemo noi di tutta la certificazione dei prodotti per lo sdoganamento. Non ci resta che scegliere i prodotti di cui hai bisogno e saremo molto lieti di raggiungere un accordo comune. Siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande. Vi auguro il meglio. Buona giornata! Buona giornata!